ragazzi buongiorno oggi ci troviamo nel frutteto perché andiamo a parlare di un argomento abbastanza tecnico ovvero i trattamenti antifungini ammessi in agricoltura biologica o comunque a più basso impatto quindi ragazzi tutto parte già dall'inverno perché in biologico non ci sono dei trattamenti curativi così come ci sono in agricoltura convenzionale ma dobbiamo lavorare in andiamo a lavorare in prevenzione quindi prevenire 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 questa è la parola chiave dei trattamenti antifungini in agricoltura biologica partiamo dalla caduta foglie in autunno le piante perdono completamente tutte le foglie le troviamo così e andiamo a dare del rame ma il rame è dannoso il rame tossico il rame ha una base di tossicità perché comunque il rame è un metallo pesante e può essere tossico se dato diciamo in eccesso comunque abusato fatto un pessimo uso però comunque è l'unica arma che c'è abbattente veramente abbattente funzionante in agricoltura biologica quindi a caduta foglie andiamo a irrorare tutte le nostre piante con del rame può essere ossicloruro di rame può essere poltiglia bordolese può essere il classico verde rame basta che diamo un fungicida rameico il fungicida rameico non è curativo è preventivo quindi noi con questo gesto andiamo a eliminare andiamo a danneggiare i funghi le forme svernanti dei funghi che ci sono sulle piante quindi se abbiamo avuto delle infestazioni di funghi quando cadono le foglie attenzione il rame va dato solo quando la pianta è così si dice in bruno quindi quando la pianta non ha le foglie perché anche fito tossico in particolare in particolare su peschi e ciliegi lo diamo in modo che tutti i funghi che stanno andando a chiudersi a formare una spora per passare l'inverno l'andiamo a distruggere lasciamo tutto così com'è per tutto l'inverno e poi andremo a fare un altro trattamento prima della ripresa vegetativa un'altra cosa vi dico però a fine inverno quando andiamo a fare la potatura se abbiamo una bella giornata calda andiamo a potare quindi appena dopo la potatura andiamo a dare del tricoderma il tricoderma ne abbiamo parlato nel video delle micorrize il tricoderma è un fungo antagonista quindi è un fungo che va a combattere i funghi patogeni quello che dobbiamo fare quindi andare a mettere un fungo che combatte quindi che contrasta questi funghi dannosi in modo che si vada a insediare ovviamente non possiamo andare a dare verde rame o poltiglia bordolesi o comunque rame con il con un fungo perché è comunque un fungicida e un fungicida uccide anche i funghi antagonisti che sono funghi nostri amici mettiamola così quindi andiamo a dare il nostro tricoderma per via foglia per via aerea quindi su tutti i tagli per bene tagli taglietti l'ideale dato che non andiamo a metterlo nel terreno il tricoderma dà il massimo di sé nel terreno è andare a mettere un po di zucchero all'interno perché il tricoderma si nutre di zucchero e di zuccheri e di azoto quindi o mettiamo un concime azotato o mettiamo un po di zucchero lo andiamo a nebulizzare aspettiamo una decina di giorni cerchiamo sempre di fare questa operazione in giornate abbastanza calde tiepide 10 15 gradi almeno sotto il tricoderma tende a non essere molto attivo aspettiamo un po di giorni circa una decina dopodiché andiamo a dare aspettiamo l'inizio della ripresa vegetativa quindi le gemmeri gonfie oppure i bottoni rosa o i bottoni bianchi in base alla in base alle piante che dobbiamo trattare e andiamo a ridare il nostro rame ecco questa qui è la fase di rigonfiamento gemme vedete che le gemme di questa pianta iniziano a gonfiarsi ciò sta a indicare che la pianta si sta risvegliando piano piano questa invece è una fase di bottone floreale vediamo che non è più solo gonfia la gemma ma ha tolto anche l'involucro rigido che all'esterno e possiamo già vedere vedete prima c'era questa era più gonfia questa qui invece è la parte di gemma la parte della protezione della gemma che secca ormai è stata eliminata e quindi siamo in questa fase qua questo è il momento giusto per andare a trattare con il nostro rame questa è la fase di bottone bianco invece su un pruno questa è una pianta di pruno vedete tutti i mazzetti di maggio che sono tutti a fiore si inizia a vedere il bianco da qui bottone bianco qua come potete vedere abbiamo un mazzetto di maggio secco quindi probabilmente abbiamo della moniglia il rame va bene anche per il discorso prevenzione della moniglia però una cosa specifica per la moniglia la vedremo più avanti quando la pianta sarà completamente fiorita ecco ragazzi questa invece è la fase bottone bianco su un pruno vedete i boccioli come stanno per esplodere quindi questo è il momento giusto anche per trattare il pruno vedete come sono tutti bianchi da cui fase di bottone bianco questa è una fase di bottone rosa siamo su un pesco di conseguenza il rigonfiamento del bocciolo risulta proprio come un bottone rosa da qui il nome quindi quando siamo in questa fase il fiore ancora chiuso assolutamente non trattiamo con il rame quando il fiore è aperto è il momento giusto anzi qua siamo addirittura un pochino avanti è il momento giusto per trattare con il nostro rame andiamo a vedere come prepararlo quindi ragazzi per quanto riguarda il rame in commercio se non abbiamo il patentino possiamo utilizzare questo tipo di prodotto è un rame in formulazione liquida la differenza è che essendo liquido viene dichiarato come concime di conseguenza non serve il patentino diciamo un po' un escamotage in realtà sappiamo che storicamente i concimi rameici poltiglia bordolese verde rame quant'altro sono in forma polverulenta quindi in polvere che va diluita non c'è problema lo utilizziamo con le dosi scritte lo dosiamo con una siringa io utilizzo questa siringa così grossa e l'andiamo a mettere all'interno della nostra pompa attenzione dato che siamo in fase di apertura dei boccioli quindi bottoni rosa bottoni bianchi in base a quello che abbiamo possiamo mettere anche dato che è compatibile possiamo mettere anche del boro io utilizzo questo prodotto si chiama boro sprint fondamentalmente andiamo ad apportare del boro alla pianta che ci aiuterà nella fase di allegagione quindi eviteremo di perdere tanti frutti ci aumenta l'allegagione in particolare il boro viene utilizzato sull'ulivo però possiamo tranquillamente utilizzarlo su tutte le piante da frutto comunque male non fa e ci va aiutare con l'allegagione andiamo a mischiarli dato che rame e boro sono due elementi che sono compatibili quindi possiamo darle insieme bene ragazzi quando andiamo a mettere qualsiasi cosa nella pompa che va diluita ricordiamoci di mettere l'acqua per all'incirca un terzo all'interno della pompa mettiamo quello che dobbiamo mettere e dopo andiamo a riempire in modo da far sì che quello che andiamo a mettere non si attacchi al fondo e poi venga diluito con l'acqua col circolo dell'acqua che facciamo entrare e già che ci siamo laviamo anche la nostra siringa bene cerchiamo di mettere sempre la mascherina anche se è rame è sempre bene non inalarlo quindi le mascherine ormai in casa ce li abbiamo tutti utilizziamo le anche quando usiamo questi prodotti il rame lo possiamo dare tranquillamente su tutta la parte della pianta anche sul tronco bene ragazzi come da copione quindi le nostre piante hanno iniziato a vegetare i pruni sono già in fiore questo è un piccolo pruno i ciliegi stanno iniziando ad aprirsi adesso i meli e i peri sono ancora un po' indietro quindi questo è il momento in cui la pianta è più sensibile agli attacchi della moniglia la moniglia è una malattia molto dannosa è un fungo che ci va a seccare gli apici dei rami in casi estremi può far seccare completamente un ramo fa seccare i frutticini e gli fa fare una particolare muffa molto caratteristica a cerchi anche una volta staccata dalla pianta quindi se voi prendete la frutta che sembra bella magari un po' acerba la mettete in cassetta la tenete lì qualche giorno e vedete dei cerchi di muffa tondi che iniziano a formarsi si crea una macchia bruna quella è moniglia in casi estremi la frutta già da piccola inizia a seccarsi e a vizzire completamente sulla pianta può anche distruggerci completamente il raccolto la moniglia in fase di fioritura quindi andiamo a fare dei trattamenti sì ragazzi lo so cosa stavate pensando ma non si possono fare i trattamenti durante la fioritura è vero non si possono fare trattamenti anti insetticidi o antifungini di tipo chimico anche il rame potrebbe creare dei problemi perché il rame nel fiore potrebbe creare un aborto e danneggiare le api e tutti gli insetticidi ovviamente e i fungicidi di origine chimica possono danneggiare le api i bombi quando vanno in pollinare ma noi facciamo un trattamento particolare in biologico andiamo a trattare con dei batteri quindi utilizzeremo un batterio specifico per la moniglia protegge anche per altre cose per ciliegio pruno proteggono per la moniglia soprattutto per il melo e il pero proteggono anche per la maculatura bruna quindi andiamo a fare questo tipo di trattamento in fioritura con un batterio e questo batterio non va a danneggiare le api perché non è un insetticida o comunque un principio attivo che danneggia le api quindi questo batterio specifico si chiama o bacillus subtilis o bacillus amilo liquefacens sono due batteri specifici utilizzati per questo scopo in agricoltura biologica quindi andremo a fare in particolare tre trattamenti trattamenti da etichetta del prodotto che vi farò vedere poi si fanno tre trattamenti durante la fioritura e appena in post fioritura dilazionati distanziati all'incirca di 10 giorni uno dall'altro 7-10 giorni uno dall'altro in tutto il periodo della fioritura da pre fioritura a post fioritura quindi 10-20-30 30 giorni andremo a fare questo trattamento bene ragazzi quindi per quanto riguarda bacillus amilo liquefacens io utilizzo questo prodotto qui però questo prodotto qui necessita del patentino io il patentino di conseguenza lo utilizzo se non avete il patentino potete utilizzare un altro prodotto che si chiama sublimat è più che altro si contiene del bacillus amilo liquefacens però più che altro un rafforzatore è un concime è un prodotto che tende a agevolare lo sviluppo di questo di questo battere chiaramente non avrà l'efficacia di un prodotto professionale con il patentino come questo però comunque se non abbiamo il patentino è un'ottima soluzione quindi andiamo a fare la nostra pesata ricordo sempre quando si fa la tanica sempre metà o di meno quindi un terzo di acqua si mette il prodotto e poi si aggiunge il resto che manca utilizzando questo prodotto da etichetta è vero che è un battere però comunque da etichetta c'è scritto di utilizzare delle precauzioni e io mi metto la mia mascherina è vero che sono prodotti tutto sommato naturali però è sempre meglio non inalarli o mangiarli o ingerirli assolutamente dobbiamo stare attenti e quindi a questo punto vado a riempire la tanica di acqua 10 litri ne facciamo quindi vado a mettere sull'acqua in modo che si mischi in automatico chiudiamo per bene il coperchio diamo un'agitata se ne abbiamo la possibilità chiaramente con la tanica che si stacca possiamo agitarlo se avessimo un automizzatore da trattore molto grande faremo molta fatica però ne abbiamo la possibilità e lo facciamo diciamo ragazzi che se comunque la primavera dovesse essere troppo umida e piovosa la moniglia comunque ce la ritroveremo sulle nostre piante perché la moniglia è un fungo che in primavera se trova un clima, un'umidità favorevole comunque tende a svilupparsi in maniera molto rapida però diciamo che questo è uno dei sistemi che abbiamo a disposizione in agricoltura biologica per contrastare questo patogeno oltre ovviamente al rame in autunno e in primavera bene ragazzi adesso è il 24 aprile sta per piovere il clima è abbastanza secco diciamo che abbiamo avuto una buona allegagione poi ve la faccio vedere abbiamo su delle belle mele pere molto piccole sta per piovere il clima è asciutto quindi dobbiamo andare a creare una protezione alle nostre piante andiamo a mettere del bicarbonato o di sodio o di potassio l'ideale è il bicarbonato di potassio o dello zolfo se abbiamo un'incidenza alta di oidio e della propoli perché la propoli ha un potere antisettico tutto ammesso in agricoltura biologica tutto non sistemico di conseguenza se noi l'andiamo a mettere proteggiamo dalla pioggia verrà dilavato poi dopo lo andremo a rimettere in questo modo andremo avanti ogni volta che inizierà a piovere adesso vi faccio vedere le piante come sono eccoci qua ragazzi vedete le mele iniziano a formarsi c'è qualche fiore che non ha allegato di conseguenza cadrà poi da solo però questa fase è molto importante vedete che iniziamo ad avere anche un po di maculatura iniziamo avere qualche puntino e quindi andiamo a proteggerci dalla pioggia che deve arrivare un po in biologico avere le foglie non perfette ci sta è una cosa abbastanza normale chiaramente dobbiamo evitare che queste micro infezioni vadano a danneggiare completamente la nostra pianta di conseguenza andiamo a fare questo trattamento andiamo a proteggere con del bicarbonato di potassio bicarbonato di sodio e il miscuglio andiamo a fare il mix che vi ho elencato prima vedete queste sono le pere abbiamo avuto una buona allegagione ci sono tanti frutticini le piante come vedete stanno molto bene chiaramente si inizia avere qualche puntino ma fa niente dobbiamo tenerle così chiaramente in metodo biologico come funziona questo mix che adesso andiamo a creare fondamentalmente i funghi quando arrivano tramite la pioggia tramite il vento attecchiscono meglio si proliferano meglio in una situazione di leggera acidità noi ben sappiamo che il bicarbonato è basico è molto basico di conseguenza noi andiamo a creare una struttura una patina di basicità una patina basica intorno alla foglia di conseguenza quando la spora del fungo va cade con l'acqua sopra la foglia va a trovare un clima ostile un ambiente ostile di conseguenza avrà molte più problematiche a proliferare è chiaro che non sarà efficace come utilizzare un prodotto sistemico però in biologico abbiamo queste armi a disposizione e dobbiamo usare queste sempre a guardare vedete che io sono sempre qui prima di fare i trattamenti non si può calendarizzare i trattamenti in biologico bisogna andare un po guardare le piante guardare le piante come stanno guardare il tempo e prima che piova ogni volta che viene una pioggia bisogna sempre mettere una copertura mettete del tricoderma mettete del bicarbonato mettete solo della propoli che ha un potere antisettico quindi protegge un po da batteri funghi in generale ma mettete sempre qualcosa prima della pioggia non dopo dopo la pioggia i danni sono fatti quindi ragazzi eccoci qui facciamo il nostro intruglio come sempre un terzo della tanica con l'acqua quando mettiamo dentro i materiali vanno 5 grammi a litro di bicarbonato di potassio e lo mettiamo su 5 grammi a litro per quanto riguarda la propoli bisogna guardare un etichetta per esempio questa marca qui indica 200 ml in 100 litri d'acqua di conseguenza in 10 litri d'acqua ne vanno 20 noi ne facciamo 15 quindi ne mettiamo 30 a questo punto riempiamo completamente con l'acqua e andiamo a nebulizzare l'importante ragazzi quando si fa questo tipo di trattamento quindi mettiamo del bicarbonato ossia di sodio che di potassio propoli eccetera e farlo prima della pioggia perché la pioggia porta contaminazione quindi può portare funghi virus batteri eccetera che possono danneggiare le nostre culture di conseguenza prima della pioggia soprattutto in biologico deve essere tutto coperto da un trattamento in questo caso andiamo a fare questo tipo di trattamento se siamo in una zona in cui c'è un alto rischio di oidio possiamo mettere dello zolfo potremmo anche mischiare lo zolfo insieme al bicarbonato oppure con la con la propoli che ha un potere come detto prima antisettico avanti così ragazzi finché non arriva l'inverno eccole qua le nostre belle piante si stanno spogliando siamo a fine novembre circa quindi quando le foglie iniziano a cadere in questo modo se abbiamo avuto una forte infestazione magari di corineo di ticchiolatura eccetera quindi le foglie sono molto segnate possiamo dare una bella nebulizzata con il macerato di ortica il macerato di ortica contiene azoto e agevola il compostaggio della materia organica di conseguenza noi andando la nebulizzare sulle foglie possiamo accelerare il processo di decomposizione in questo modo il fungo fa più fatica a svernare perché la foglia si decompone di conseguenza il fungo resta a contatto con il gelo le intemperie la neve e di conseguenza muore o comunque andiamo a ridurre un po l'infestazione una volta che saranno cadute completamente tutte le foglie possiamo evitare questa operazione andiamo a fare un altro giro con la nostra poltiglia bordolese rame e calce oppure il classico verde rame comunque un fungicida rameico come quello che abbiamo messo in primavera cerchiamo di prenderne uno con alta adesività di conseguenza che resta ben attaccato anche quando piove se le temperature restano sempre basse non serve ripetere i trattamenti se invece magari a metà inverno fa dei picchi di 10 15 gradi quindi le temperature si alzano piove tanto possiamo ripetere il trattamento però se abbiamo un inverno come da me che resta costante intorno ai 5 meno 2 meno 3 gradi possiamo fare un unico trattamento in questo momento caduta foglie e basta bene ragazzi vi ho fatto vedere come gestisco io il frutteto biologico tutto quello che vi ho detto tutti i prodotti che vi ho fatto utilizzare che vi ho fatto vedere in precedenza sono tutti ammessi nel disciplinare del biologico sia i prodotti che le modalità di esecuzione quindi se volete provare ad avere un bel frutteto biologico senza residui all'interno della piante avere della frutta naturalissima e buonissima da mangiare così trac e ve la mangiate giù dalla pianta provate questi trucchetti e fatemi sapere cosa ne pensate per questo video è tutto ragazzi se avete delle domande scrivetemele nei commenti ci vediamo nel prossimo video un saluto dal contadino nick ciao 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 ciao